Giustina, la mamma di Antonietto, Osvaldo e Anna Tommaselli, 80 e rotti anni ma sempre nell'Ippica, sempre nell'Ippodromo, veramente una stacanovista dell'Ippica. La nostra Giustina. Via la macchina. Ubertosa dal centro, facile, non ha problemi per andare al comando, interviene Universal Figaro e l'allivo di Di Nardo con un classico freeway passa al comando. I cavalli che completano il lancio o il lancio da parte del targato LF ce ne va in 14 e ora al completamento della piegata Universal ha un po' a graduare al completamento della stessa. Quarto iniziale da parte di Universal se ne va nell'ordine del 29-9. Per linee esterne il 6 di Ubertosa anticipato da Ulrich e l'allievo di Mario Minopoli punta in avanti, costringe il leader a allungare. Ma insiste Ulrich, vuole freeway e dopo 600 in 44-8 passa il targato DL al comando. I cavalli affrontano la piegata con Ulrich nuovo leader, questo figlio di Donatanover, ci va al completamento del mezzo miglio e nell'ordine di un minuto è proprio una virgoletta e il portacolore della Cumana farà andatura per linee esterne, understand, che copre Universal Figaro. Cavalli al completamento del chilometro, si distende bene il Donatanover, completa il chilometro in 15 e 2, è chiaro 15 e 1 di frazione, 500 alla meta, con il leader sempre con una di margine, curva finale, Ulrich in vantaggio, 400 alla meta, allargo generosamente understand, gruppo molto compatto dietro Ulrich, poi vediamo anche Uto Ugi che si affaccia in terza ruota mentre non c'è spazio per Universal, completamento della curva finale, Ulrich ha il comando, allunga Ulrich, mantiene il comando, Ulrich leader, viene via a largo alla grande il 4 di un beat and griff, un beat and griff va sui primi, Ubertosa di dentro, lotta incerta, un beat in griff con Giorgio D'Alessandro, prende la meglio in zona traguardo, mentre per il secondo sono vicino, Universal e Uragano Jet, 2 1 e 3, 1 15 e 8, vittoria personale di Giorgione ed Alessandro, con questo portacolore dell'avvocato Gragnaniello, mentre per il secondo il Leone con Uragano batte, Universal Fiar, 4 quindi per il primo, 5 per il secondo, 7 per il terzo, un beat and griff che fa scuderia con Uto Ugi, 15 e 97 addirittura, bella quota ma bella vittoria personale di Giorgione D'Alessandro per il team Minopoli.